Vietato sbagliare questo il diktat in casa Real Città di Paternò che domani pomeriggio con inizio alle 15 giocherà al Somma a buon aiuto di Mascaluccia. L'anticipo della quinta giornata di campionato mette i ragazzi di La Rosa di fronte all'ostacolo Città di Mascaluccia. Formazione in crisi che più in crisi non si può. La compagine di Mister Stella subentrato a Marino dopo due giornate ultimissime in classifica con 0 punti. 20 golli incassati appena uno quello realizzato. Insomma un autentico disastro calcistico questo inizio di stagione per la compagine del presidente Spina che nell'ultima gara casalinga è stata spazzata via per 9 a 0 dal città di Raguse. Settimana scorsa ne ha prese sei in trasferta dall'atletico Catania. Numeri dunque impietosi che non lasciano spazio a nessuna interpretazione. Ma la squadra di La Rosa non deve fare l'errore colossale di sottovalutare l'avversario. L'occasione è ghiottissima per portare a casa i tre punti e consolidare la seconda piazza in classifica. A patto però che i paternesi giochino come hanno fatto nelle ultime uscite di campionato. Servirà dunque una prestazione perfetta perché questa gara è paradossalmente la più difficile di questo inizio di stagione. E se non affrontata con la giusta cattiveria agonistica può trasformarsi in un enorme trappolone. Tecnicamente non c'è partita e i paternesi sono avanti anni luceco perché sarebbe davvero un peccato mortale non portare a casa questi tre punti. La Rosa sta preparando il match nei minimi dettagli cercando di dilazionare le energie dei suoi reduci dalle fatiche di Coppa. Per la gara del Somma a buon aiuto mancheranno Barbagallo che sconda la terza e ultima giornata di squalifica. È reale fermato dal giudice sportivo dopo il rosso rimediato settimana scorsa con il Real Siracusa a Belvedere. Per il resto sono tutti disponibili. Si va verso la conferma della formazione che settimana scorsa ha battuto il Belvedere con la variante di Campanella che affiancherà Daedone nel cuore della difesa. Vincere sarebbe fondamentale per aumentare ancora di più l'autostima in vista del ritorno di Coppa di mercoledì e soprattutto per arrivare al massimo al doppio confronto casalingo con Atletico, Catania e Città di Ragusa. Calcio d'inizio alle 15 arbitrerà il match il signor Giuseppe Mattai Cerraso di Messina coadiuvato da Anthony Lise e Marco Lauretta in drambi della sezione di Ragusa.